ArcelorMittal può fare i comodi propri, licenza di uccidere e se c'erano delle scadenze di prescrizioni previste dall'AIA, di lavori previsti, imposti dall'AIA che dovevano essere realizzati, ora c'è l'autorizzazione a rinviare gli stessi fino a novembre, fino a fine anno appunto, fino a novembre 2020. Questo lo ha stabilito, ha dato l'ok il ministro Costa, il ministro dell'ambiente. Costa il pentastellato, il generale dei carabinieri che diceva di difendere l'ambiente, di essere il paladino dell'ambiente, anche lui si genuflette e si mette sull'attenti, da buon carabinire, perché i carabinieri si mettono sull'attenti ma rispettando lo Stato, e questa è una cosa doverosa, lui invece Costa, il ministro Costa si mette sugli attenti davanti ad ArcelorMittal, cosa vergognosa, e si dice va bene, questi lavori per l'attuazione dell'AIA possono slittare anche a novembre. Il comune di Taranto e la regione si oppongono a questa realtà, ma incredibilmente anche altri soggetti istituzionali del territorio, penso a Ispra, penso alla ASL, penso ai vigili del fuoco, penso alla commissione tecnica via Vias, penso alla commissione istruttoria AIA IPPC, questi soggetti istituzionali hanno dato l'ok allo slittamento appunto dell'attuazione dell'AIA, cosa incredibile e vergognosa. Questo significa che ArcelorMittal è una realtà industriale legibus soluta, ho usato questa espressione latina per dire che evidentemente non soggiace, è sciolta, è avulsa, è esente dal rispetto della legge. E come si è giustificato questo? Dicendo, beh, indubbiamente il coronavirus e quindi il rallentamento dei lavori è dovuto appunto al lockdown, al blocco dei lavori a causa del coronavirus, e anzi il nuovo cronoprogramma che ha stabilito ArcelorMittal di attuazione di questi lavori e di queste prescrizioni, meglio, è un qualcosa di accettabile, di consono, di congruo. In pratica ArcelorMittal finora non ha fatto nulla, ha distrutto Taranto, non ha fatto alcun lavoro all'interno dello stabilimento. Quanto a demissioni meglio non parlarne, ha vomitato di tutto, di più e ora trova la scusa che non ha potuto completare l'opera perché c'era il covid e quindi ovviamente il rallentamento, il lockdown che ha bloccato tutto. Ma scusate, prima di marzo, quando grazie a Dio il coronavirus ancora non c'era, cioè non era arrivato e non aveva comportato il blocco, ArcelorMittal cosa aveva fatto? E basta con questa asla di Taranto, con i vigili del fuoco, con l'ISPRA, che anche loro dicono sì, signor sì ad ArcelorMittal. Ho appreso della posizione del disdegno da parte del sindaco Melucci e da parte del governatore Emiliano per conto della regione rispetto a quest'ennesimo rinvio. Sono d'accordo con loro, però a questo punto mi rivolgo al sindaco. Qui dalle parole, dalle dichiarazioni contro ArcelorMittal dobbiamo passare ai fatti e dobbiamo passare a fatti concreti, stringenti. Non basta dire, sindaco, creiamo un futuro, un new deal, un nuovo corso, un green deal, un corso verde. Benvenga questo, benvenga l'accordo di programma di cui lei parla, benvenga, sindaco, l'accordo, il contatto con Piombino, quindi con altre realtà legate all'acciaio con le quali ipotizzare un futuro diverso, però anche con riferimento alla produzione dell'acciaio. Io sono per la chiusura senza sé, senza va, me ne fotto dell'acciaio, perché Taranto non deve vivere di acciaio. Taranto deve vivere di mare, di turismo, di agricoltura, di risorse naturali, di risorse archeologiche, di storia, di cultura, di questo deve vivere. Non deve vivere di acciaio, l'acciaio non serve a niente. Me ne frego del PIL, me ne frego assai. A me conta la vita, conta salvare vite umane, conta far ripartire dall'economia, da quelle che sono le vocazioni naturali del territorio. Ma a questo punto, sindaco, il percorso è pressoché tracciato, imposto, obbligato. Lei deve firmare l'ordinanza di chiusura, senza sé e senza ma. In più occasioni ha dato parecchie chance ad Arcelor Mittal, parecchie, prima i 30 giorni e poi Arcelor Mittal è muta, sorda e cieca. Non se ne fotte assolutamente niente. E allora, con certa gente, bisogna usare la mano pesante. Ordinanza di chiusura, senza sé e senza ma. Almeno dell'aria a caldo. Io chiuderei tutto, ma almeno dell'aria a caldo. Le belle parole, i propositi non servono, occorrono i fatti. E allora, a questo punto cosa creiamo? Lo scontro istituzionale? Lo scontro con il Ministero? Lo scontro con la Prefettura? Lo scontro con il Governo? Non fa nulla. Io, sindaco, metto la firma per l'ordinanza di chiusura. Poi, quello che vogliono fare, fanno. Perché, ripeto, questi lavori, questo slittamento dell'aria a novembre, sa proprio di beffa. E poi da novembre succederanno altri guai e si rinvierà, si rinvierà, si rinvierà. E nel frattempo, tanta gente, tanti cittadini di inquinamento, se ne vanno al Creatore, perché i tumori non si fermano d'estate. E poi vediamo le file dei disgraziati sotto il Moscati, sotto il sole, o i poveri Cristi che devono fare la radioterapia, che vengono sbattuti a Lecce. Però, per Arcelor Mittal, il tempo si ferma. Dinanzi ad Arcelor Mittal ci si inchina e si concedono tutti i benefici e si concede tutta la comprensione inaccettabile, pazzesca, folle. Questa è Taranto. Pugno duro con i criminali di Arcelor Mittal. Chiusura immediata, senza sé e senza ma. Sindaco, una firmetta, un'ordinanza di chiusura. E sarò io il primo a stringerle la mano. Senza Bavaglio, un programma di inchiesta e di denuncia a cura di Luigi Abate. In onda ogni lunedì, mercoledì, venerdì e domenica alle ore 15 su Telesud. Canale 115 del digitale terrestre visibile in Puglia. Senza Bavaglio, informazione libera, sempre.